Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi in un nuovo video a tema Harry Potter abbiamo una bella recensione di un volume di Panini Comics ma prima di cominciare vi ricordo che su Pampling, utilizzando il codice 7Potter avrete il 20% di sconto su tutti i vostri acquisti presenti e futuri da qui all'eternità naturalmente questa maglietta l'ho acquistata su Pampling a tema Harry Potter ma trovate tantissimi altri fandom come il Trovo di Spada, il Signore degli Anelli, Marvel e chi più ne ha più ne metta, link sotto in info box oggi parleremo di questo volume, un nuovo tacquino della linea creata da Panini Comics e si tratta del tacquino dedicato a formule e incantesimi di Harry Potter cosa contengono questi volumi? Sono davvero molto molto interessanti sono dei piccoli volumi cartonati dedicati a degli aspetti significativi della saga di Harry Potter e animali fantastici, ne ho già recensiti altri sul canale li trovate naturalmente nella scheda dedicata a Harry Potter all'interno del mio canale YouTube e questo qui è dedicato a formule e incantesimi e all'interno troveremo tanti gadget a tema solitamente ci sono delle mappe, degli adesivi, dei piccoli gadget in cartone e cose molto molto carine che è possibile anche staccare e magari utilizzare nelle proprie foto di Instagram perché io stesso ho tolto tantissimo materiale da questi volumi per poter realizzare delle foto, delle storie su Instagram carine magari in accoppiata con i Funko Pop e con altri prodotti sono davvero materiali molto molto utili detto questo io direi di dare un taglio alle ciance e di cambiare inquadratura e cominciare a sfogliare assieme questo nuovo volume ecco qui il nostro libro in copertina troviamo la prima lezione di incantesimi colpo verso Vitus quella del Wingardium Leviosa infatti troviamo Ermione, Draco, Ron ed Harry e questa illustrazione mi piace davvero tantissimo ma cominciamo a sfogliare il nostro libro ed ecco che troviamo subito il primo allegato e si tratta naturalmente del poster dedicato agli incantesimi troviamo tutti i nomi dei vari incantesimi e poi in alto abbiamo il corrispondente movimento molto molto carino partiamo già molto molto bene ecco che qui troviamo di nuovo lo schema degli incantesimi e poi formule e incantesimi il tacquino del film il sommario del libro l'introduzione ed ecco che già troviamo un altro allegato qui abbiamo la copertina del libro standard degli incantesimi molto molto carino e si parla appunto del Wingardium Leviosa poi troviamo anche gli incantesimi del professor Allok e poi ecco che abbiamo Arania Exumai con il nostro Ron qui c'è una pellicola di protezione e poi Rictusempra Volate e Scenderai Vipera Ivaniska e Serpensortia questi sono tutti incantesimi tratti dalla Camera dei Segreti ovviamente passiamo al prigioniero di Azkaban col Ridiculus e qui abbiamo un libretto con coreografia per bacchette questo dedicato alla Camera dei Segreti ad Erri che insegna ai suoi amici ad usare gli incantesimi come l'expetto patronum e poi ecco altre pagine dedicate alle coreografie delle bacchette quando sono andato agli studios di Harry Potter c'è stata proprio una dimostrazione sulle coreografie molto molto interessante eseguita da dei Mangiamorte è stato davvero molto molto carino poi altri incantesimi e qui ecco che abbiamo un inserto Expetto Patronum vediamo cosa c'è all'interno ci sono delle carte e credo sia proprio ogni carta dedicata al Patronus quindi abbiamo Silente con la Fenice poi abbiamo Ginny con un cavallo Erri con il cervo Ermione con la Lontra Luna Lovegood col coniglio e poi abbiamo Lame Granit col gatto e Ron Weasley con il cane e Severus Piton con la cerva andiamo ancora avanti e passiamo al torneo tre maghi con i vari incantesimi utilizzati gli incantesimi impropri utilizzati nella saga quelli protettivi qui ci avviciniamo alla fine della saga cinematografica e poi incantesimi di duplicazione quelli della Gringot Maledizioni senza perdono tutte approfondite una per uno deve essere davvero molto interessante leggerlo e credo proprio che lo farò e poi abbiamo incantesimi non verbali un altro piccolo allegato come ad esempio Dobby Voldemort Silente tutti i maghi in grado di fare incantesimi senza pronunciarli Bellatrix Lucius e poi ecco che passiamo alla Vada Kedavra a Derri e poi il Sectusempra e poi troviamo un'altra copertina di libri e si tratta di pozioni avanzate questa è la copertina del libro del Principe Mezzosangue ovviamente andiamo ancora avanti incantesimi esplosivi qui troviamo il confringo l'espulso l'incendio è un piccolo compendio di tutti gli incantesimi che abbiamo visto all'interno della saga cinematografica quindi non è strettamente dedicato ai libri ma più che altro ai film troviamo anche l'Ardemonio e poi ecco che c'è un altro allegato abbiamo degli adesivi qui con i Patronus con sempre lo schema dei vari movimenti per richiamare gli incantesimi e poi i Patronum eccetera eccetera andiamo ancora avanti il Piertotum Locomotor mio incantesimo preferito in assoluto sempre i brividi quando la Meggranit lo esegue e poi andiamo ancora avanti ecco che troviamo questa bellissima lontra e poi ecco che abbiamo in allegato nella copertina esterna anche la copertina del libro quindi questa bellissima illustrazione che mi era già piaciuta all'inizio io vi dico la verità ho sempre voglia di incorniciare tutte queste illustrazioni e potrei tappezzarci seriamente l'intera casa dopo aver sfogliato e spulciato per bene questo nuovo taccuino direi che possiamo trarre le nostre conclusioni questi volumi secondo me sono davvero molto molto carini e fanno una gran bella figura nella propria collezione soprattutto per chi colleziona i libri dedicati a Harry Potter anche questo è un volume immancabile vi ricordo che i volumi di Panini Comics vanno spesso sold out e raramente vengono ristampati e comunque non frequentemente quindi qualora foste interessati io vi consiglio di prenderlo al volo perché già questo è diventato abbastanza difficile da trovare io vi lascio naturalmente il link sotto in infobox alla mia vetrina Amazon dove trovate tutta l'intera sezione dedicata ai libri di Panini Comics dedicati al mondo di Harry Potter e al Wizarding World in generale e vi ricordo che per qualsiasi acquisto effettuato all'interno della mia vetrina Amazon io riceverò una piccolissima commissione che mi aiuterà a mandare avanti il canale quindi grazie in anticipo per chi vorrà collaborare detto questo ragazzi naturalmente anche questo libro adesso andrà a far parte della mia collezione non vedo l'ora che ne arrivino altri ci sono tantissime altre novità in arrivo a tema Harry Potter e non vedo l'ora di portarle qui sul canale io come al solito vi chiedo di lasciare un mi piace commentare iscrivervi al canale qualora non potete ancora iscritti seguirmi su Instagram Antonio.seria mi trovate facilmente e ragazzi non mi resta che darvi appuntamento prestissimo con tante altre novità ciao 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 ciao